Un saluto a tutti cari amici di Youtube, adesso voglio parlare di un personaggio alquanto mistico, ma non tanto un mago, un addotto e anche un politico dell'Inghilterra, un assessore comunale di un paesino della Gran Bretagna, un certo Simon Parkes che dice di essere figlio di un alieno e a sua volta dice di essere anche padre di un alieno ibrido. Da bambino affermava che nella culla è stato catturato da un'indità extraterrestre con la pelle squamosa, gli occhi grandi, otto dita e senza pollici. Guardando le mani si accorse che non era la propria madre. Io ci credo perché non è stata l'unica persona, ci sono stati anche comuni mortali che nella culla sono stati a sua volta catturati dall'entità sovrannaturali. Non è stato l'unico, ma questa non è l'unica cosa che dice di Simon Parkes, oltre al fatto di essere figlio di un alieno e oltre al fatto di dire che uno dei suoi tre figli è un extraterrestre ibrido. Il fatto è che Simon Parkes ha confermato che è vero che ci sono degli extraterrestri che collaborano con l'elite a nostro discapito per il male dell'umanità. e dice che non sempre gli alieni mantici o i rettiliani o i dragoriani sono più cattivi dei nordici. Noi diamo più fiducia ai nordici perché sono quelli che ci somigliano di più e abbiamo questa sorta di empatia verso gli alieni nordici proprio perché ci somigliano. Ma non è detto che gli extraterrestri nordici siano più buoni dei rettiliani e dei mantidi. Lui crede molto di essere un figlio di un mantide e dà molto ragione a Zakaria Sittich Sittin credendolo come una persona eccezionale, come uno che ha capito dalle tavolette sumere la pura e sacrosanta verità. Anche se io su Zakaria Sittich non è che gli do tanto ragione perché io so che siamo stati creati da un unico e solo Dio che altro non è che l'intero universo. Ma questo è secondo me, non secondo Zakaria Sittich e non secondo Simon Parkes. Simon Parkes non ci crede alla teoria della Terra Cava. Dice che all'interno del pianeta Terra c'è come insegnano a scuola questo mantello terrestre e il nucleo terrestre e che la Terra Cava non esiste ma esistono una serie di grotte e caverne sotterranee dove ci vivono entità noi sconosciute. Sembra lo stesso Simon Parkes dice che oltre agli esseri umani ci sono anche i delfini che comunicano con gli alieni per questo motivo in alcuni posti degli Stati Uniti d'America i luoghi dove ci sono questi campi militari segreti ci vietano di avvicinarsi ai delfini perché sanno che i delfini come noi sanno comunicare con questi extraterrestri. Gli extraterrestri hanno imparato da noi la gestualità e il linguaggio del corpo che un tempo non usavano e non hanno umorismo ma come si vede nel film Terminator 3 che alla fine un computer riesce a dire una barzelletta anche senza capirla perché gli alieni non capiscono l'umorismo però lo comprendono dagli esseri umani. Cioè a loro non fa ridere nulla però capiscono cosa a noi ci fa ridere. Queste sono tante teorie sempre sullo stesso Simon Parkes su questo assessore comunale che afferma che realmente l'elite è sotto la dittatura di questi extraterrestri e che non tutti gli extraterrestri sono buoni, non tutti sono cattivi. Io dico che non dipende dalla razza se uno è buono o uno è cattivo altrimenti dovremmo dire che i negri sono tutti buoni e i caucasici sono tutti cattivi. Non è detto. Quindi anche gli extraterrestri non è detto che i rettiliani siano quelli cattivi e i nordici sono quelli buoni. Dipende individualmente, da individuo ad individuo. Prendete tutto quello che vi sto dicendo come teoria sappiate che io non sto inventando nulla mi sto basando soltanto su quello che ho letto su internet su Simon Parkes e su dei video su Simon Parkes che ho visto. Se proprio volete approfondire quello che ho detto su di lui potete anche farlo. Con questo è tutto un abbraccio dal Gran Mitico.